If you know I can't be fun, send them all along Ciao a tutti! Vi volevo invitare per quest'anno al FIM, Fiera Internazionale della Musica, che si terrà nei giorni 26, 27 e 28 di maggio. Nella zona Lario Fiere, a Derba, in provincia di Como, saranno tre giornate dedicate alla musica. E non a caso mi trovo qui, vicino a questa rappresentazione di Graceland, del mitico Elvis, perché il FIM ha avuto l'idea di dedicare uno spazio a lui, al mitico Elvis. Noi degli Elvis Way suoneremo il giorno 28 di maggio, l'ultima giornata, alle ore 20, ci saranno con noi altri gruppi e io, oltre a suonare col gruppo, mi porterò la famiglia e è una cosa che voglio consigliare anche a voi. Portate la vostra famiglia perché la musica è la cosa più bella da condividere. Ci vediamo al FIM, mi raccomando, Elvis per sempre!